Eccoci qui, buongiorno e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Parlamentare. Sono le ore 10.01 di questo venerdì 22 di ottobre e siamo arrivati al nostro appuntamento settimanale con la rubrica Futuro Chiama Europa con Luisa Riggimenti, europarlamentare del gruppo PP Forza Italia. Onorevole, ben ritrovata, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Allora, anche questa settimana entreremo veramente nel vivo dei lavori del Parlamento europeo, ma prima di introdurre l'argomento di questa trasmissione partiamo subito con la sigla. Eccoci qui, allora, martedì scorso il Parlamento europeo ha approvato la cosiddetta strategia farm to fork che in Italia è nota come strategia dal produttore al consumatore per un sistema alimentare più sano e rispettoso dell'ambiente che tra l'altro insieme anche alla strategia sulla biodiversità per il 2030 proprio vuole guidare l'Europa verso quella che è considerata la transizione agroalimentare. Ecco, onorevole reggimenti, è sicuramente un cambio di passo e anche di paradigma di non poco conto. Ci vorrà ovviamente del tempo, questi sono i primi passi che l'Europa sta muovendo in una prospettiva anche di azzeramento di quelle che sono le emissioni di gas e festo serra e sappiamo come ci sono queste tappe da rispettare 2030 e 2050. Come l'Europa intende realmente attuare questo Green Deal verso un'Europa sostenibile e nello specifico la strategia farm to fork cosa prevede per gli Stati membri? Sì, allora è importante come prima cosa, lei lo ha già fatto in parte, di fornire agli ascoltatori il contesto di questa strategia. La strategia farm to fork, che in italiano appunto significa dal produttore al consumatore, è stato uno dei testi più dibattuti della presente legislatura e ha incontrato numerosi affermi non solo tra i gruppi parlamentari presenti nel Parlamento europeo, ma all'interno dei gruppi stessi. Si tratta di una strategia pubblicata dalla Commissione europea lo scorso 20 maggio 2020, con l'obiettivo di accelerare la transizione verso un sistema alimentare più equo, più sano e più rispettoso dell'ambiente e questa strategia si inserisce, come lei ha detto correttamente, nel cosiddetto pacchetto del Passo Verde, il Green Deal, che ha l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, riducendo, tutti ormai lo sanno, del 55% le emissioni entro il 2030. Questo documento ha avuto un forte impatto nell'opinione pubblica, tanto da portare il Parlamento a proporre una relazione autonoma su questa proposta, con l'obiettivo di creare una linea alla Commissione, relativamente sia ai temi da trattare e alla modalità di gestione delle iniziative proposte. Come sappiamo, il Parlamento è l'unica delle istituzioni europee direttamente eletta e quindi rappresenta, oltre che gli interessi, l'autentica voce dei cittadini. Il testo è stato appena votato a Strasburgo e ha avuto un'approvazione piena da parte dei parlamentari, con 452 voti a favore, 170 contrari e 70 attenzioni. Quindi poi il confronto alla fine si è risolto in un compromesso tra le diverse sensibilità da questo punto di vista? Certamente, perché la visione è una visione di tipo olistico sanitario e quindi è basata sull'integrazione di discipline diverse e sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema sono legate insolutamente tra loro e quindi l'obiettivo è di creare un sistema alimentare europeo, costruire una filiera alimentare che funzioni per i cittadini, per i lavoratori, per i produttori e per i distributori. Ora, questo testo alla fine, sebbene si occupi del settore alimentare, al centro di questo testo praticamente c'è l'agricoltura e quindi la fornitura degli alimenti, la catena di approvvigionamento alimentare e tutta una serie di argomenti che riguardano soprattutto l'agricoltura. Quindi gli agricoltori hanno questo ruolo fondamentale e sono gli attori principali di questo progetto e la loro funzione è importante sia sui prodotti che utilizzano in agricoltura, cioè l'uso dei pesticidi e quindi l'obiettivo di eliminare questi prodotti citosanitari dannosi per l'ambiente e la fauna è sicuramente di fondamentale importanza, ma non può neanche essere compiuto così da un giorno all'altro e quindi la richiesta correlata alla riduzione dei pesticidi tossici riguarda l'insegno almeno per il 25% dei terreni agricoltori europei di trasformarli in agricoltura biologica. Si tende a favorire questo processo però in modo graduale, in modo da non arrivare a poi incidere sui prezzi, sulle produzioni e anche sull'occupazione. Ecco, lei ha toccato dei temi molto interessanti in quanto spesso anche il cittadino comune è abituato a pensare alle emissioni di gas serra, l'anidride carbonica, i gas di scarico, ma effettivamente una grande parte delle emissioni climalteranti dipendono dal settore zootecnico anche riguardo gli allevamenti, ma anche appunto lei ha parlato dell'utilizzo dei pesticidi che non solo sono un danno comunque poi per quello che riguarda il suolo, ma anche per le emissioni di ammoniaca, di selenio, di metano e quant'altro. Quindi l'agricoltura è strettamente legata alla lotta al cambiamento climatico e lei onorevole ha toccato un punto fondamentale che poi riguarda la gradualità dei cambiamenti. Già sono difficili i cambiamenti così importanti come questi e ovviamente gli agricoltori e i parlamentari anche europei che rappresentano anche le istanze del proprio territorio, del proprio Stato, sono molto attenti anche a quello che è il sistema di gradualità. Da questo punto di vista quali sono anche in linea di massima le tappe europee, decise dal Parlamento europeo ma anche dalla Commissione che poi gli Stati dovranno attuare? Allora, intanto la necessità di ridurre l'esternalizzazione da parte dell'Unione e dei suoi sistemi alimentari. Mi spiego meglio, oltre il 30% dei terreni necessari per soddisfare la domanda alimentare dei cittadini europei si trova al di fuori dell'Europa, quindi l'initiva dell'Europa importa quasi per la stessa percentuale tutto ciò che non ha la capacità di produrre e quindi questo aumenta l'impatto ambientale della produzione, si batti per fare soltanto ai trasporti per questi alimenti e non solo, spesso e volentieri la dipendenza da paesi terzi non rispetta quelle norme che invece sono estremamente stringenti per i paesi europei in relazione ad esempio ai pesticidi, alle condizioni dei lavoratori e allo sfruttamento del terreno. Quindi il testo ribadisce la necessità di garantire che le importazioni da paesi terzi rispechino gli standard lavorativi, sociali, ambientali e igienici che richiedono appunto le produzioni europee e questo di conseguenza condiziona tutti gli accordi commerciali che sono stati stabiliti con i vari paesi e quindi questo è un altro aspetto che riguarda la gradualità che non può essere raggiunta in tempi ristretti che l'Europa propone. Uno dei relatori che ha curato le negoziazioni sulla strategia è proprio un collega della mia delegazione, Herbert Dorfman del gruppo BPA. Che nonostante il nome è italiano comunque, se non sbaglio. Sì è italiano, insieme alla collega tedesca Schneider ha saputo gestire molto bene i dibattiti e le contrattazioni tra i vari gruppi politici perché sostanzialmente che cosa si è verificato? Ci sono questioni che riguardano, sono questioni sensibili che riguardano i paesi europei e soprattutto quelli del Mediterraneo. Quindi quasi c'è una divisione tra i paesi del Nord Europa e del Sud Europa. Comunque la votazione ha messo in evidenza la presa di posizione da parte del Parlamento che vuole dare un segnale forte alla Commissione sulla necessità di tutelare anche gli agricoltori e gli imprenditori del settore agroalimentare rispetto alle grosse problematiche che riguardano filiere che sono tipicamente italiane. E quindi c'è la prima questione che riguarda il sistema dell'etichettatura obbligatoria. Infatti era una domanda che volevo farle perché ovviamente anche relativamente all'importazione di cibi anche da territori extra Europa ovviamente i cittadini devono compiere anche delle scelte consapevoli perché questi cambiamenti vanno comunque poi a premiare o dovrebbero andare a premiare quelle che sono le imprese e le aziende che tutelano maggiormente l'ambiente in un'ottica proprio di sostenibilità. Il compromesso è cercare un'etichettatura in grado di informare il consumatore senza condizionarlo. Si ripete spesso ma poi non è proprio così. Ecco, e lì andiamo in particolare ad affrontare il sistema del cosiddetto sistema Nutri-Score che fortemente ne abbiamo sentito parlare così magari abbiamo anche modo di dare ai nostri ascoltatori delle informazioni più precise. Tra l'altro se non sbaglio entro il 2022 onorevole poi magari mi dirà lei se l'informazione è giusta o sbagliata, l'Europa dovrà armonizzare la materia dell'etichettatura degli alimenti e il Nutri-Score è proprio uno degli scontri specialmente tra Francia e Italia abbastanza acceso. Esattamente, questa è una questione estremamente dibattuta perché il sistema a semaforo, il Nutri-Score, penalizza gravemente i prodotti italiani, l'olio, l'oliva, il grama padano, il prosciutto di parma che presi singolarmente sono alimenti di grassi, di sale e quindi li fanno conquistare il semaforo rosso in questo ragionamento errato che il Nutri-Score propone. In realtà questi cibi vanno armonizzati con la dieta mediterranea che peraltro è una delle migliori diete del mondo, tanto da essere considerata patrimonio culturale immateriale dall'UNESCO, cioè la nostra dieta mediterranea è sana e da buona salute ai consumatori. Però con questo sistema viene fatto fuori molto della produzione alimentare italiana. Abbiamo proposto un altro sistema di etichettatura, di etichettatura intelligente che si chiama Nutri-Informa Battery, cioè è una batteria, è un'etichettatura batteria che ci dà la quantità di energia, di grassi dell'alimento senza stabilirne la bontà in base a dei criteri che comunque sono da considerare. Sì, tra l'altro abbiamo visto che con il sistema Nutri-Score ci sono magari dei biscotti o comunque dei prodotti che contengono l'80% di zuccheri, hanno il semaforo verde, quindi non si capisce bene qual è il criterio sinceramente. Anche particolari formaggi molto poco salutari, che comunque riescono a abbassare l'etichettatura Nutri-Score che peraltro è già usata, è usata in Francia e in Belgio. Sì, se non sbaglio anche in Germania, Lussemburgo e la Spagna è in fase di approvazione. Quindi siamo un po' in minoranza, ce la faremo come sistema Italia? Abbiamo prodotto un nuovo sistema di etichettatura su basi estremamente scientifiche, non ci siamo affidati soltanto a un ragionamento così di tipo utilitaristico o commerciale, abbiamo offerto delle motivazioni che sono mediche, scientifiche, universalmente riconosciute. Cioè il quantitativo energetico di un prodotto e la possibilità di ragionare e informare i consumatori che la dieta deve essere comunque bilanciata, non esiste una dieta a salutare che sia priva di grassi, priva di zuccheri o priva di sale, tutto va assunto in modo armonico e con giusto equilibrio. Ma c'è anche un'altra questione che per esempio è dibattuta rispetto all'alimentazione, cioè l'associazione di prodotti non italiani con immagini fordianti, cioè vengono messi in commercio la mozzarella, il parmesan. Ecco, rispetto a questi problemi abbiamo fatto richieste al Parlamento per la tutela anche del marchio e della produzione italiana. Io appunto li ho visti in commercio anche in Belgio e nessun italiano si mangerebbe mai questa mozzarella o questo parmesan, non hanno nemmeno lontanamente le caratteristiche dei nostri prodotti di eccellenza del nostro Paese. Tra l'altro il nostro Paese perde veramente tantissimi miliardi ogni anno per effetto di questo Italian Sandwich, se ne parla da tanto tempo e non si riesce a trovare una soluzione. Diciamo che questa rivisitazione un po' del sistema agricolo in un'ottica di sostenibilità può essere un aiuto per superare anche questi ostacoli che fino ad oggi non hanno trovato una soluzione? Sicuramente, questo progetto è della produzione nel luogo di produzione, quindi consumare sul luogo di produzione i prodotti senza mettere di mezzo trasporti e quindi conservazione, eccetera, è un progetto molto intelligente e ambizioso, però ripeto, come ho detto sin dall'inizio, lo studio che è stato fatto anche dalla Commissione stessa, dalla Commissione europea, uno studio che è stato fatto recentemente, ha messo appunto in evidenza che la transizione rapida porterete una serie di problemi di natura economica, sociale e ambientale che non sono sicuramente sostenibili, per cui il gruppo del quale faccio parte, il Partito Popolare europeo, ha chiesto proprio a Timmerman che è il vicepresidente della Commissione, il padre del Granville, maggiori chiarimenti rispetto a questa valutazione di impatto, perché è necessario sicuramente l'innovazione, sicuramente la trasformazione, ma gli obiettivi sono sicuramente condivisibili, però abbiamo bisogno anche di alternative sostenibili e anche di non danneggiare le tradizioni agricole che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Quindi uno studio che può dare ai singoli Paesi membri un aiuto per capire come indirizzare la transizione? Sì, perché sa anche uno dei punti molto discussi è quello che riguarda il paragrafo 21, le fonti alternative di proteine alimentari, il consumo nell'unione di alimenti a base di proteine e di insetti, questa è una questione controversa, insetti. Non siamo abituati a pensare agli insetti nell'alimentazione, magari ho capito male. No, no, ha capito benissimo, quindi quando parlo di alterare tradizioni alimentari assolutamente consolidate è a questo che faccio riferimento, quindi è una questione controversa, prematura e potrebbe veramente minare la filiera alimentare e il commercio anche di prodotti di qualità nel nostro Paese. Per quanto poi riguarda, lei faceva riferimento al comparto zootecnico e sono stati richiesti degli indicatori per valutare il benessere degli animali, quindi l'eliminazione delle gabbie, ma soprattutto il mancato rispetto della riduzione dei farmaci antimicrobici che vengono utilizzati anche per gli animali. Quindi anche questo, almeno del 50%, anche questo è un problema che sicuramente è giusto e va affrontato, però non drasticamente, perché ridurre entro il 2030 del 50% le vendite degli antimicrobici sui animali di allevamento rappresenta delle preoccupazioni sia per i produttori sia per i consumatori. Sono previste dei fondi anche per aiutare le imprese a convertirsi in maniera, anche riguardo le aziende che hanno degli allevamenti intensivi o meno intensivi, però siamo quasi alle soglie del 2022 e il 2030, si può dire che è dietro l'angolo da questo punto di vista. Ci sono anche dei fondi che possono aiutare le aziende a questa trasformazione? Esattamente, questo è un tema sul quale noi ci siamo battuti, perché chiaramente dovendo trasformare almeno il 25% di tutti i terreni che abbiamo coltivato in Europa in culture biologiche, significa incidere profondamente su questo tipo di produzione. Quindi gli agricoltori responsabili di queste trasformazioni devono percepire un'equa parte dei profitti ottenuti dalla produzione di alimenti in maniera sostenibile. Devono essere aiutati a fare questa trasformazione che ovviamente comporta non più quella produzione ai livelli attuali, naturalmente ci sarà per le culture biologiche una riduzione della produzione, così come ci sarà una riduzione degli allevamenti dei capi di bestiame, non potendo utilizzare questi antimicrobici che comunque garantiscono la salute anche a scopo preventivo dei capi di bestiame. Quindi è chiaro che devono essere risarciti o comunque aiutati in questa fase di transizione. Penso anche che culturalmente serve proprio un cambio di passo per cambiare proprio modalità di vita. Esattamente, e questo poi il discorso culturale è molto mirato, abbiamo molto insistito sullo spreco alimentare. Lo spreco alimentare è un tema, è un tema importante, sì. Secondo la FAO addirittura sono 1,6 miliardi di tonnellate di cibo che vengono perdute ogni anno e questo è pari a un terzo della produzione alimentare globale, sono numeri che fanno paura, sono impressionanti e quindi ogni anno sono stati generati 88 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari e quindi… Questo in Europa? Sì, sì, europeo. Quindi sono numeri, tra l'altro costi e perdite in termini di circa 143 miliardi di Euro e poi se vogliamo ragionare in termini di inquinamento direi che il 6% delle emissioni totali di gas e serra è prodotto da questi rifiuti alimentari. La scoperta è che questi rifiuti alimentari sono soprattutto di origine domestica, quindi sono sprechi… Quindi da parte delle famiglie, insomma. Da parte delle famiglie. E soprattutto in relazione a quelle norme sulle date di scadenza, in cui c'è scritto da consumarti entro, da consumarti preferibilmente entro, no? Siccome quella dicitura è un po' contraddittoria, chiaramente le persone sono portate a distruggere questo cibo e a eliminarlo, insomma, quando arriva alla data… Allora, queste sono etichettature diciamo europee o italiane? E' da consumarsi entro o preferibilmente entro? Sì, sono di competenza della Commissione e quindi alla Commissione il Parlamento ha chiesto di chiarire le attuali norme in maniera di date di scadenza. Che cosa vuol dire da consumarti entro? Quando è che un alimento è sicuramente scaduto? Ecco, quella è la data che serve. Oppure da consumarti preferibilmente entro? Non è una dicitura chiara e quindi si chiede di chiarire su questo. E rispetto quindi alle campagne informative alle quali faceva riferimento lei, si è visto che è necessario su questo tema sviluppare campagne informative per evitare tutti questi sprechi, insomma, che sono una cosa… Poi, diciamo, c'è anche una quota di spreco che è dovuta alla trasformazione alimentare, alla sovrapproduzione, agli errori di imballaggio, pure ai danni accidentali, insomma, nella conservazione dei cibi. Una cosa buona nel nostro paese l'ha fatta, che è la legge 166 del 2016, si chiama legge Garda e consente di recuperare il cibo, diciamo, nel nostro paese, permettendo ai commercianti, alle catene di distribuzione di conservare le rimanenti di alimenti in buono stato e donarle ai fini di solidarietà, quindi o donarle alle organizzazioni che si occupano di fornire passi alle persone, insomma, indigenti, a quelli, appunto, senza testo. Sì, tra l'altro dal 2017 abbiamo anche, per fortuna, al Ministero dell'Agricoltura l'Osservatorio sulle eccedenze e sugli sprechi alimentari che comunque ci dà, diciamo, dei dei parametri degli aiuti, proprio come ha detto lei, anche per intervenire sul recupero e sulle donazioni agli indigenti, che poi in questo periodo fa un po' senso quasi, no? Vedere tante persone che anche per effetto della pandemia ... ... ... Grazie a tutti